Con la programmazione comunitaria 21-27 approvata in Consiglio regionale a novembre del 22 abbiamo destinato un milione di euro a questo progetto di 219 tirocinanti in tutti gli uffici giudiziari della Regione Marche. Questo è molto importante, il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Acquaroli con il Procuratore Generale della Repubblica, il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tarra e le quattro università. Quindi una sinergia importante tra tutte le istituzioni. Sicuramente 219 tirocinanti faranno esperienza negli uffici giudiziari e smaltiranno anche molto del lavoro pregresso.